L'attenzione resta e palpabile nelle proteste di chi quotidianamente affolla le sedi del sindacato perché altri uffici sono fisicamente chiusi e non sempre per via telefonica le richieste vengono ivase. Il giorno dopo si scopre che il presunto avvertimento aveva riguardato anche Wille CGL, non solo la CISL. Ma questo significa che intanto, come avete visto stamattina, noi non chiudiamo e non facciamo un passo indietro. Sapevamo già da ieri che questa cosa non riguardava solo la CISL ma riguardava un po' tutti noi. Forse una maggiore attenzione anche per le altre sedi sarebbe stata opportuna a partire dalla mattina però voglio dire che questo lascia il tempo che trovo adesso. Il dato è che lo stato di tensione ad Avellino è prima l'attacco al centro dell'impiego, la bomba carta là e poi l'annuncio a noi e poi il proiettile per strada e poi e poi e poi sono una somma di difficoltà. Intanto alcuni enti sono ancora chiusi e il personale non ha accesso. Avete visto qua all'esterno tra CAF e padronato ci sono decine e decine di persone. Menovo che abbiamo gli spazi esterni e interni, il dato è che la politica è totalmente assente su questa parte del paese. Dalla Cassa Integrazione non erogata ai bonus nel mirino per le mancate promesse della politica ci finisce il sindacato ed ecco l'invito del segretario Fiordellisi. Io l'ho detto da tempo, sto chiedendo a questa classe dirigente, mediocre in molti casi, sia politica che governativa a tutti i vari livelli, di lanciare messaggi precisi, di non stare in perenne campagna elettorale alzando il tiro ogni volta su chi dà di più o chi ha dato di meno, perché, contro, tutta questa cosa qua. Noi sappiamo che sono degli aspetti tecnici importanti e la devono smettere, perché poi chi è il front office vero, cioè gli uffici pubblici, in alcuni casi, che poteva essere la Sanità, anziché il Centro per l'Impiego, anziché l'Inps, vengono impallinati dalle emergenze sociali, oppure appunto il sindacato, Cigelle e Cisleguil, come è accaduto ieri, vengono impropriamente da mitomani o meno attenzionati da minacce, perché si pensano che noi siamo il legislatore e siamo noi a non voler erogare qualcosa. Questo è sbagliatissimo, per cui chiediamo a tutti i soggetti che fanno l'amministrazione pubblica di essere più puntuali, meno litigiosi, meno propaganda elettorale e di dire messaggi precisi, visto che usano tantissimo Facebook e altri mezzi di produzione, diciamo così, culturale e comunicativa.